ragazzi quanti papi e sentitevi liberi di farne un altro eh mi raccomando signori andiamo avanti forza riempite la pista anche di qua si può ballare ci fosse stato io ti giuro sai sarei rimasto sì sono con me adesso forse sarei laureato e magari se lei fosse stata con me adesso sarei sposato se fossi stato insomma dai adesso sono qui vuoi che dica anche se soddisfatto di me fond in fondo non sono mai stato soddisfatto di che ma va bene anche se qualche volta mi sono sbagliato liberi liberi siamo noi ero liberi da che cosa chissà cos'è chissà cos'è grazie grazie